Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo il mancato accesso ai finanziamenti del PNRR per il rifacimento della vasca esterna nella piscina comunale Gregori, i cittadini e le società che utilizzano l'impianto di San Benedetto chiedono di conoscere quando la vasca sarà riutilizzabile, tenendo presente che chiusa ad ormai 10 anni, il sindaco Spazzafumo ammette che qualcosa è andato storto, ma afferma che sta lavorando a una nuova progettazione. Ma sì, ho saputo appunto che questi finanziamenti non arriveranno, chiaramente c'è stato qualcosa che è andato storto, ne ho preso atto, ne ho preso e vabbè, insomma, poi verremo quelle che sono magari le attività da fare successivamente. Io come ho detto ultimamente nel mio programma di mandato ho appunto la riapertura della piscina esterna, quindi è un impegno che mi sono preso, sono abituato a mantenere gli impegni e poi magari vedremo fra qualche anno quello che, magari anche prima, vedremo quello che succederà, poi insomma, vorremmo parlare con i fatti piuttosto che con le chiacchiere. Però ci state lavorando, mi sembra di capire. Beh, sì, ci sto lavorando. Sto portando avanti un'iniziativa che secondo me potrebbe andare a buon fine. Il primo passaggio è quello della ristrutturazione degli spogliatoi, giusto? Sì, allora noi abbiamo una fase dove dobbiamo sistemare quell'area dove appunto dovrebbe andare a gara ed è un'area dove dovrebbe essere sistemata la parte esterna della piscina. Poi ci sarà tutto l'iter della sistemazione della piscina esterna con tutte quelle prescrizioni che il CONI aveva dato e che quindi sono state prese in considerazione per poter poi andare a sviluppare un nuovo progetto.